Al termine del video, clicca il link che vedi qui sotto nella descrizione per tutti i dettagli sull'applicazione pratica del metodo. Ciao, sono il dottor Charles, la bella donna accanto a me è Lori, una delle mie pazienti preferite. E questo è il mio cane, Dolce. Oggi voglio condividere con te un trucchetto per dimagrire piuttosto inusuale. Si tratta di una cosa che è sempre stata sotto il nostro naso da tutta la vita. Ed è uno dei consigli più importanti che do ai miei pazienti della clinica di Fishers nell'Indiana. È un accorgimento molto semplice, che può farti perdere dai 2 ai 5 centimetri di circonferenza nella pancia in meno di una settimana. Ho bisogno della tua completa attenzione. Il video che sto per mostrarti contiene uno dei miei più grandi segreti bruciagrassi. E non so per quanto tempo ancora resterà online, perciò assicurati di guardarlo dall'inizio alla fine, finché è disponibile. Ok, ora starei pensando qualcosa com'è. Ascolta, amico, ho provato ogni dieta possibile e immaginabile. Ce l'ho messa davvero tutta. È inutile, i risultati sono scarsi e ogni volta ingrasso di nuovo. Bene, fermati un attimo. Io non sto parlando di pillole dimagranti miracolose. Quello che sto per dirti non ha nulla a che vedere con le bacche di assai, le gocce dimagranti o tutte le altre porcherie sempre più pubblicizzate su internet. Perché i consigli che sto per darti risalgono a più di 50 anni fa. Appena te li dirò, capirai immediatamente perché gli italiani stanno diventando un popolo sempre più in sovrappeso. E no, il motivo non è il cibo spazzatura. Ti dimostrerò che è possibile mangiare alcuni cibi che non sono per niente dietetici e continuare a perdere peso comunque. Che tu ci creda o no, non è colpa tua. Ma prima di spiegarti tutti i dettagli, voglio dirti qualcosa di me. Sono un chiropratico, professionista del benessere, nutrizionista avanzato e autore. Ho già aiutato migliaia di persone in tutto il mondo. Prima di tutto, permettimi di raccontarti di una mia paziente di cui sono particolarmente fiero, Lori. Era la tipica donna in carriera con tre figli. Sì, tre, hai capito bene. Lori è stata la mia cavia. Ed è stata lei ad aiutarmi a creare questo programma. Il patrimonio genetico di Lori non è dei migliori. Nella sua famiglia ci sono casi di obesità, diabete e malattie cardiache. Perciò ho pensato che se il mio programma funzionava con lei, allora avrebbe potuto aiutare chiunque. Grazie al mio consiglio, che ho intenzione di condividere con te tra poco, Lori, in soli nove giorni, ha perso cinque centimetri dal girovita, quattro chili, due centimetri nelle cosce, un centimetro nelle braccia e ben tre taglie. Lori ha trent'anni e oggi indossa vestiti più stretti di quando andava al liceo. Ora so che probabilmente sei scettico e ti capisco. Voglio dire, è un'affermazione piuttosto forte, che sembra provenire da una rivista settimanale. Ma non è così. Lori ha perso in tutto 41 chili e 16 taglie. Sì, 16. Dopo la sua ultima gravidanza ha raggiunto i 95 chili e non è più riuscita a dimagrire. Oggi Lori pesa 54 chili. Lori ha ottenuto questi risultati senza contare le calorie, senza soffrire la fame e senza ammazzarsi in palestra. Tutto continuando a mangiare i suoi cibi preferiti, come il gelato al lampone, che si è assolutamente rifiutata di eliminare. Le sue amiche sono golose e molti non riescono a credere che sia mai stata incinta. Ascolta, sfortunatamente quando si tratta di perdere peso, le donne sono in netto svantaggio. Dimagrire è più difficile per una donna. Infatti le donne sono state progettate per non perdere peso. E non importa quanto può sembrarti poco realistica questa affermazione. Questa è la realtà. Se ti fermi un attimo a pensarci, ha perfettamente senso. Ti spiego, tutto risale ai nostri antenati preistorici. Gli uomini non sono mai stati progettati per accumulare grasso. Gli uomini dovevano essere magri e rapidi per cacciare, perciò dovevano necessariamente essere leggeri. Anche noi uomini possiamo ingrassare, ma questo va completamente contro la nostra genetica. Innanzitutto, le donne sono state progettate per accumulare grasso, perché dovevano sopravvivere e crescere i figli anche nei periodi di carestia. Le donne sono state programmate per accumulare quanto più grasso è possibile e non perderlo, perché serviva per partorire e produrre latte per i figli. Quindi, purtroppo o per fortuna, siamo stati programmati per sopravvivere e non per essere belli. Le donne dimagriscono con più difficoltà per queste ragioni. Primo, le cellule di grasso delle donne sono più grandi e contengono più enzimi accumulagrassi. Le cellule di grasso maschili, invece, contengono enzimi bruciagrassi e sono più piccole. Onestamente, se una donna vuole dimagrire, deve faticare più di un uomo, ed è per questo che il mio metodo funziona così bene. Ti spiegherò tutto nel dettaglio tra poco in questa presentazione. Secondo, gli estrogeni moltiplicano gli enzimi accumulagrassi, che fanno aumentare e ingrassare le cosce e i glutei in particolare. Questo è il prezzo per chi dà alla luce nuove vite. Terzo, le diete drastiche ti fanno morire di fame, riducono gli enzimi bruciagrassi fino al 50%. Il nostro corpo impazzisce letteralmente. Quindi, con le diete drastiche, non solo perdi massa muscolare, ma anche gli enzimi che ti aiuterebbero a dimagrire. Questo dovrebbe averti chiarito perché per le donne è più faticoso perdere peso. Quindi, è davvero possibile aggirare questa stupida genetica? Ho delle buone notizie per te. Tu puoi, ed è possibile, e sto per svelarti un semplice accorgimento che accelererà il tuo dimagrimento istantaneamente. Te lo garantisco. Quando conoscerai quello che sto per condividere con te, ti sarà chiaro perché tante diete non funzionano a lungo termine. Sai, il profitto dell'industria del perdere peso proviene dalla vendita di prodotti che possono dare anche buoni risultati, ma che non durano nel tempo. Ecco come stanno le cose. Noi non abbiamo bisogno di loro e dei loro costosi prodotti dimagranti. Sto per svelarti il segreto che ti permetterà di bruciare il grasso, anche se ogni tanto mangi i tuoi cibi preferiti. Ora, permettimi di darti una piccola lezione di anatomia su un fenomeno che probabilmente non hai mai sentito nominare. Forse il mio discorso si farà un po' tecnico per qualche secondo, ma stai con me perché ti prometto che alla fine di questa presentazione scoprirai come perdere tutto il peso che vuoi e come non riprenderlo mai più. Tutto ha a che fare con il tuo fegato. I compiti principali del fegato sono scomporre le sostanze nocive e produrre la bile, che scompone i grassi nell'intestino tenue. La bile è essenziale per il trasporto dei grassi nell'organismo e una disfunzione del tuo fegato può manifestarsi con la difficoltà di eliminare il colesterolo, che è appunto un tipo di grasso. Per chi di noi segue una dieta ricca di colesterolo, come ultimamente la dieta italiana, una disfunzione a livello del fegato può determinare un notevole aumento di peso. Una ridotta capacità del fegato di regolare il metabolismo si traduce in un accumulo di grasso soprattutto nella zona addominale, e il risultato è una pancia sporgente, insomma, la pancetta con i rotoli. Un altro sintomo di problemi al fegato è quel rotolo di grasso appena sotto l'ombelico. Se il fegato non funziona correttamente, non riesce a rimuovere i chilomicroni, le piccole particelle di grasso che circolano nel sangue. I chilomicroni possono invadere gli altri organi e accumularsi sotto forma di depositi di grasso sotto la pelle, che si trasformano in cellulite nei glutei, nelle cosce, nelle braccia e nella pancia. Mandare via il grasso della pancia e la cellulite è molto difficile se le normali funzioni del fegato non vengono ripristinate. E questo è uno dei principali motivi per cui più diventiamo vecchi e più diventiamo grassi. Quello che sto cercando di dirti è che se il tuo fegato è intasato da cibo spazzatura e tossine, è difficile per te perdere peso, a prescindere da quale dieta segui e da quanto va in palestra. Ti sei mai chiesto perché quando interrompi una dieta riprendi indietro tutti i chili persi? Devi sapere che se ripulisci il tuo fegato, il tuo corpo tornerà ad essere una macchina brucia grassi automaticamente. Immagina di iniziare un buon programma di dimagrimento con un fegato sano, che brucia i grassi costantemente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche mentre dormi. Ecco il fattore fondamentale. Devi essere il più sano possibile prima di iniziare la dieta o qualsiasi programma di dimagrimento. Se inizi un programma dimagrante, senza prima purificare e depurare il tuo corpo, vai incontro ad un fallimento assicurato ancora prima di iniziare. Quindi, che cosa puoi fare immediatamente per ripulire il tuo fegato? A giudicare dal successo di Lori e di centinaia di pazienti, ho scoperto un sistema molto efficace che dà risultati duraturi nel tempo e capaci di cambiare completamente la tua vita. Noi chiamiamo questo sistema il fattore brucia grasso. È composto da elementi molto semplici. Tra un momento ti mostrerò un bel po' di fotografie di persone reali prima e dopo aver usato il sistema. Naturalmente c'è anche Lori, che ha raggiunto risultati incredibili con il programma Il fattore brucia grasso. Posso garantirti che con questo sistema tutti possono dimagrire e puoi farlo anche tu. Il primo passo da fare consiste nel ripulire il tuo fegato e il tuo corpo. A pagina 30, troverai una lista dei cibi che contengono le sostanze che si legano alle tossine e ti permettono di espellerle per sempre dal tuo corpo. Questa fase consiste praticamente nel riparare ai danni fatti in passato, permettendo al tuo metabolismo di accelerare il suo ritmo istantaneamente. Nel secondo passo, ti parlerò di specifici cibi brucia grassi che puoi mangiare, così potrai permetterti anche di sgarrare e di concederti ogni tanto ciò che più ti piace, come ha fatto Lori con il gelato, pur continuando a perdere peso. A pagina 34, scoprirai i cibi brucia grassi più salutari e deliziosi e allo stesso tempo economici. Non devi fare un mutuo per mangiare bene. Nel terzo passo, a pagina 45, capirai perché non hai bisogno di fare tutto quel cardio che i cosiddetti esperti ti dicono di fare. Infatti, se vuoi velocizzare i tempi e perdere più peso, quando seguirai il programma, saranno sufficienti solo 15 minuti di cardio tre volte a settimana. Non ha senso ammazzarsi in palestra, a meno che ovviamente non ti diverta farlo. Il quarto passo, a pagina 60, leggerai qualcosa che ti scioccherà. È la vera causa per cui tutte le diete falliscono e il perché il programma Il fattore brucia grasso è infallibile. Una volta che avrai letto quest'ultima parte, vedrai il dimagrimento da un'altra prospettiva e dopo solo poche settimane, starai già ristrutturando il tuo organismo. Il tuo metabolismo accelererà e raggiungerai quella che potrebbe essere la forma migliore della tua vita. Ciò che insegno nel programma Il fattore brucia grasso non è una lista infinita di tanti punti tecnici e difficili da seguire. È scritto tutto in modo semplice e diretto. Fai questo, poi fai quest'altro. Tutti possono seguirlo senza fatica. È scritto per le persone normali. Non è pura teoria, come spesso accade nei programmi di dimagrimento. Sono le stesse cose che dico ai miei pazienti della clinica di Fishers nell'Indiana. E per dimostrarti che quello di Lori non è stato solo un colpo di fortuna, ti faccio vedere le foto di altri pazienti che hanno seguito il mio programma con risultati a dir poco strepitosi. Questo è Matt, viene da Monrovia, Indiana. Dai un'occhiata alle sue foto. Matt ha perso 29 chili in pochi mesi e non ha perso solo tanto grasso, ma ha anche aumentato la sua massa muscolare. Ecco la moglie di Matt, Rachel, che si è limitata semplicemente a seguire il programma assieme a lui. Rachel ha cambiato totalmente il suo corpo all'età di 38 anni. E questo è Tim. Tim ha perso 33 chili e mezzo alla tenera età di 50 anni. Di recente ha anche corso la sua prima maratona di 5 chilometri. Per la prima volta ha portato a termine un'impresa che prima non aveva nemmeno mai immaginato di fare. Posso garantirti che otterrai gli stessi risultati di questi pazienti? Certo che no, perché non tutti seguiranno il programma passo per passo. Detto questo però, posso assolutamente garantirti due cose. La prima è che se seguirai il programma vedrai i risultati e potrebbero perfino essere migliori di quelli che hai visto nel corso di questa presentazione. La seconda è che se non sei soddisfatto al 110% dei risultati che otterrai, non dovrai pagare nulla e potrai tenerti anche il programma. Il programma completo e il fattore brucia grasso è lo stesso programma che hanno usato Matt, Rachel, Tim, Lori e migliaia di altre persone. Puoi cambiare il tuo corpo e la tua vita e sono totalmente sicuro che funzionerà anche per te che come ti ho detto prima, se per qualsiasi ragione decidi che il programma non fa per te e me lo fai sapere con un'email entro otto settimane, sarai rimborsato completamente e potrai tenere tutto il materiale. Non ti farò domande, non dovrai darmi nessuna spiegazione e non dovrai compilare nessun modulo di ritorno. Ti basterà mandarmi una semplice email e ti restituirò tutti i tuoi soldi. La mia email personale è Charles at fattore bruciagrasso.com Scrivimi quando vuoi. Controllo molto spesso la posta e amo conoscere nuove persone, perciò chiedimi pure tutto ciò che vuoi. Di solito rispondo entro due ore al massimo. Bene, quanto costa un programma come questo? Se ti registri ai programmi dimagranti di Jenny o di Nutra, per esempio, spenderesti circa 1200 euro solo per una parte del cibo di cui avrai bisogno nel loro programma che dura 12 settimane. Dico una parte perché queste compagnie non ti dicono che devi comunque andare al supermercato a comprare del cibo in più rispetto a quello che ordini da loro ogni 4 settimane. In più, in alcuni di questi programmi paghi in base a quanto dimagrisci. Sì, più perdi peso e più paghi. È ridicolo. E rischi di restare vincolato a queste aziende per molto, molto tempo. Chi lo vorrebbe mai? Oppure potresti scegliere di seguire una qualsiasi delle diete moderne, giusto? Però il suo costo potrebbe nuocere gravemente al tuo portafoglio o peggio ancora potresti ritrovarti con una dieta che non solo ti fa sprecare soldi e salute, ma ti fa sembrare ancora peggio di prima. Oppure puoi avere il programma Il Fattore Brucia Grasso a un prezzo minore di quello che spenderesti per una sola seduta con un personal trainer. Sono sicuro che sai di cosa sto parlando. E avrai tutto questo, l'intero programma Il Fattore Brucia Grasso, che ti insegnerà tutta la verità su come dimagrire in modo veloce e permanente continuando a mangiare i tuoi cibi preferiti. È lo stesso metodo che hanno usato Lori, Rachel, Matt e Tim, che hai visto prima. Tu avrai lo stesso programma che hanno usato loro. Secondo, riceverai video per purificare il tuo fegato e tutto il tuo corpo in cui noi nella nostra cucina prepariamo tutto il necessario. Perdere alcuni centimetri dal girovita in una settimana è possibile ed è anche semplice. Terzo, avrai una lista della spesa già fatta. Ce ne siamo già occupati noi per te. Abbiamo creato una lista di tutti i cibi che puoi comprare al supermercato. Niente è lasciato al caso. Quarto, riceverai la lista completa di tutti gli esercizi più efficaci per bruciare il grasso per il livello principiante, intermedio ed esperto. Tutto ciò che devi fare è leggere ed eseguire le mie semplici istruzioni. Quando ti senti pronto, passa al livello successivo. Quinto, oltre a questo, avrai a disposizione cinque esempi di allenamento ognuno di 15 minuti. Mi hai sentito bene? Ti bastano solo 15 minuti al giorno. Se ti dimentichi come si fa un esercizio, ti basterà andare sul sito www.fattorebruciagrasso.com e rivedere i video animati. Imparerai immediatamente a fare qualsiasi tipo di esercizio. Sì, abbiamo provveduto anche a questo. Sesto, riceverai la tua scheda personale che potrai usare per tenere d'occhio tutti i tuoi progressi. Quando perderai centimetri e chili ogni settimana, sarai in grado di annotarlo subito in modo semplice e organizzato. Mi raccomando, tienimi aggiornato sui risultati che otterrai. Settimo, una guida per i tuoi obiettivi semplice da usare, la stessa che uso nella mia clinica. Rispondendo ad alcune domande, avrai bene in mente l'obiettivo che vuoi raggiungere. Devi sempre sapere cosa vuoi se ti interessa realizzare il tuo obiettivo. Otto, un insostituibile diario alimentare e degli esercizi. L'ho progettato per aiutarti a lavorare facilmente giorno per giorno e vedere esattamente che cosa fai e che cosa mangi. Avrai sempre sotto gli occhi le prove dei tuoi progressi. Nove, ti seguirò per un anno intero tramite e-mail. Già, hai il mio indirizzo e-mail. Puoi chiedermi quello che vuoi quando vuoi. Ascolta, sarò a tua disposizione per ogni passo del percorso. Ci sarò in ogni momento. Puoi farcela una volta per tutte e sono qui per motivarti e per darti una mano nei momenti difficili. Inoltre, riceverai tutti gli aggiornamenti futuri gratuitamente. Sì, se scopriamo qualcosa che funziona meglio o più velocemente o con meno sforzo, la inseriremo all'interno del programma e tu lo riceverai completamente gratis. Clicca il link che vedi qui sotto nella descrizione per tutti i dettagli sull'applicazione pratica del metodo. Non è colpa tua, ma prima di spiegarti tutti i dettagli, voglio dirti qualcosa di me. Sono un chiropratico, professionista del benessere, nutrizionista avanzato e autore. Ho già aiutato migliaia di persone in tutto il mondo. Prima di tutto, permettimi di raccontarti di una mia paziente di cui sono particolarmente fiero, Lori. Era la tipica donna in carriera con tre figli. Sì, tre, hai capito bene. Lori è stata la mia cavia, sarà online. Perciò assicurati di guardarlo dall'inizio alla fine, finché è disponibile. Ok, ora starai pensando qualcosa com'è. Ascolta amico, ho provato ogni dieta possibile e immaginabile. Ce l'ho messa davvero tutta. È inutile, i risultati sono scarsi e ogni volta ingrasso di nuovo. Bene, fermati un attimo. Io non sto parlando di pillole dimagranti e miracolose. Quello che sto per dirti non ha nulla a che vedere con le bacche di assai, le gratta di una cosa che è sempre stata sotto il nostro naso da tutta la vita. ed è uno dei consigli più importanti che do ai miei pazienti della clinica di Fishers nell'Indiana. È un accorgimento molto semplice che può farti perdere dai 2 ai 5 centimetri di circonferenza nella pancia in meno di una settimana. Ho bisogno della tua completa attenzione. Il video che sto per mostrarti contiene uno dei miei più grandi segreti bruciagrassi e non so per quanto tempo ancora. Al termine del video clicca il link che vedi qui sotto nella descrizione per tutti i dettagli sull'applicazione pratica del metodo. Ciao, sono il dottor Charles, la bella donna accanto a me è Lori, una delle mie pazienti preferite. E questo è il mio cane, dolce. Oggi voglio condividere con te un trucchetto per dimagrire piuttosto inusuale. Si trocce dimagranti o tutte le altre porcherie sempre più pubblicizzate su internet. Perché i consigli che sto per darti risalgono a più di 50 anni fa. Appena te li dirò capirai immediatamente perché gli italiani stanno diventando un popolo sempre più in sovrappeso. E no, il motivo non è il cibo spazzatura. Ti dimostrerò che è possibile mangiare alcuni cibi che non sono per niente dietetici e continuare a perdere peso comunque. Che tu ci creda o no,